Faccio questo video per rispondere ai molti di voi che mi hanno chiesto di approfondire il concetto di spinta. Si può esprimere questo concetto in altre parole come propulsione, ovvero quel processo motorio che stimola i posteriori ad impegnarsi più attivamente e ingaggiarsi sotto la massa, per far sì che possano portare peso. È molto importante dare la giusta attenzione alla fase di spinta, già dalle prime fasi del lavoro del cavallo. Questo perché è uno dei tasselli fondamentali per far sì che un cavallo si trovi a suo agio nell'addestramento e di conseguenza possa progredire correttamente nello stesso. Ma come puoi migliorare la spinta del tuo cavallo? Sicuramente non forzando l'incollatura con la mano. A tal proposito ho fatto un video in precedenza che è strettamente legato a questo, perciò se non lo hai visto, ti udito ad andarlo a vedere sulla mia pagina Facebook. Uno degli esercizi migliori che puoi fare per migliorare questo aspetto dell'addestramento sono le transizioni e le variazioni di ritmo amanti e indietro per spingere i posteriori del cavallo a muoversi gradualmente nella direzione più corretta. Se questo video ti è stato utile, clicca mi piace qui sotto e condividilo con i tuoi amici. Ci vediamo presto nei prossimi video!